Lunedì scorso sono iniziati con autorizzazione del 24 dicembre 2009 i lavori di demolizione di un vecchio stabile edificato negli anni 20 e sito ad angolo tra il Viale Giostra e Viale Libertà. Con questa ennesima demolizione un altro tassello della storia della città viene cancellato per dar posto a un nuovo anonimo palazzo. Non si è capito che di sfruggendo questi edifici dopo terremoto si rischia di cancellare buona parte del patrimonio urbano cittadino perché se si è autorizzata questa nuova speculazione edilizia nessuno potrà vietare l'eliminazione di altri edifici dello stesso periodo presente in gran numero nel centro storico. Messina in questi anni sta subendo l'ennesimo scellerato sacco edilizio dopo quello degli anni 70 con il bene placido di quelle istituzioni che dovrebbero tutelare i valori storici, artistici e ambientali. Nell'ultimo decennio sull'altare della speculazione sono stati sacrificati importanti strutture come il teatro Romolo Valli o il monumentale cineteatro Excelsior. Sono state deturpate ville di pregio con la costruzione all'interno dei loro suggestivi giardini di palazzine come è accaduto nell'ottocentesca villa Falconieri a Boccetta, alla villa Cappellani a Ringo, alla villa Falchi a Sant'Agata e in parte dei terreni di Villa Roberto a Gazzirri. Per non parlare degli spazi verdi già compromessi come quello accanto il palazzo dei leoni, le colline dell'Archimede, la parte retrostante la chiesa di Grotte o la collina prospicente l'antico eramo della Madonna di Trapani. Prossima operazione l'eliminazione dei campetti di Pompei e della adiacente Pineta, oltre che lo storico Colle di Montalto. Non vogliamo mummificare Messina come in modo maldestro e sospetto il quotidiano locale ha scritto per contrastare la ragionevole presa di posizione della quinta circonscrizione a difesa del palazzo di Viale Libertà, ma vogliamo salvaguardare il nostro passato e la nostra memoria.